Se vi avvicinate vi ammazzo, ha urlato mentre brandiva un grosso coltello da cucina. Per queste ragioni Daniel Asanovic, serbo di 28 anni pluripregiudicato, è stato arrestato in flagranza di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Erano le 2.50 di domenica quando la volante è intervenuta a Cuneo in soccorso di una donna esasperata e impaurita. Gli agenti hanno messo in salvo la donna e hanno quindi cercato di convincere l'uomo a calmarsi e ad arrendersi. Sono stati attimi di tensione finché l'aggressore, convinto dalle parole dei poliziotti, si è arreso e si è fatto arrestare. Ma quando tutto sembrava finito, la donna si accingeva a preparare la valigia per liberarsi del convivente e metterla alla porta. L'uomo ha nuovamente dato in escandescenza aggredendo i poliziotti. Uno dei militari coinvolti ha avuto la peggio ed è stato sottoposto alle cure mediche per sull'ospedale Santa Croce di Cuneo. Processato per direttissima e in seguito a patteggiamento è stato condannato a 15 mesi di reclusione da scontare il regime dell'obbligo di dimora. Altri due arresti operati dalla squadra mobile di Cuneo, sezione antidroga, nei confronti di altrettanti spacciatori. Il primo a finire nella rete della squadra mobile è stato un giovane italiano pluripregiudicato per reati inerenti gli stupefacenti, domiciliato in Vallestura, riconosciuto responsabile di essere il destinatario di almeno 7 tetti di stupefacente, tipo hashish, rinvenuti e sequestrati a Settembre a Bernezzo. Il secondo giovane è anche gli italiani e un disoccupato cunese sorpreso a cedere sostanza stupefacente ad un amico, nella perferia di Cuneo. Da prima è stato bloccato l'acquirente con alcuni grammi di hashish appena acquistato. Subito dopo è stato fermato anche il pusher che si stava recando ad occultare altro stupefacente, verosimilmente destinato a successive cessioni. Il giovane è stato giudicato per direttissima e condannato ad una pena di 5 mesi. Domenica 15 dicembre, proprio mentre entrava in vigore il nuovo orario ferroviario che sanciva ufficialmente il passaggio da 16 a 4 corse giornaliere della Cuneo Ventimiglia, diverse centinaia di persone provenienti dalla Francia e dall'Italia si sono ritrovate a tenda per esprimere la propria protesta per tale decisione. Erano presenti tutti i sindaci della Valroia, l'assessore del comune di Cuneo Walter Fantino, il consigliere Emanuele Isoardi e il consigliere regionale del Piemonte Fabrizio Biolè. Il neonato comitato reclama nell'immediato il promesso finanziamento e la messa in opera dei lavori urgenti che permetteranno l'annullamento del rallentamento a 40 km orari, preso a pretesto dalla regione Piemonte per la drastica riduzione delle corse, nonché il ripristino dei treni che permettano di soddisfare i bisogni delle popolazioni del Piemonte, della Liguria, della Costa Azzurra e della Roia. Più a lungo termine si chiede la revisione della Convenzione Franco-Italiana del 1970 e la modernizzazione e l'elettrificazione della linea. La prossima mobilitazione sarà il 27 dicembre a Genova in occasione dell'incontro tra i presidenti delle regioni Piemonte e Liguria sul tema dei trasporti. Il comitato sarà presente per confermare la propria volontà di non mollare forte del sostegno dei 20.000 cittadini che ad oggi hanno firmato la petizione. Nel 2014 come amministrazione comunale avvieremo un progetto per la realizzazione di un monumento dedicato a Giacomo Morra in Piazza Savona. Lo faremo coinvolgendo la famiglia e le istituzioni che si occupano di turismo sul territorio. Se ne parla da un po' ho raggiunto l'ora di concretizzare, abbiamo già qualche idea in merito. Pensiamo sia un segno importante perché con Morra è iniziata la trasformazione in senso turistico della nostra città. Lo ha annunciato il sindaco di Alba Maurizio Marello all'incontro ricordo di Giacomo Morra con la presentazione del catalogo della mostra Giacomo Morra e il re del tartufo, sabato 14 dicembre nella sala Resistenza del Palazzo Comunale. Giacomo Morra ha avuto la grande generità di innovare. Può darci una mano a non perdere l'orientamento verso un cammino che siamo fortemente chiamati a seguire. Uscita serata spettacolo vi doniamo un sorriso organizzato dall'Aido venerdì 13 dicembre con il patrocinio della città di Bra è stata occasione tramite l'assessore Massimo Borelli presente per l'amministrazione comunale in auditorium CR Bra per ufficializzare una notizia bomba di grandissima importanza. Sull'onda di un protocollo di intesa siglato a livello nazionale tra Anci e l'Aido dopo un periodo di sperimentazione concretizzatosi positivamente nella regione Umbria sarà ora esteso e diffuso in tutta Italia tramite le prefetture la consona opportunità con il coinvolgimento delle singole amministrazioni comunali di promuovere l'adesione alla donazione degli organi e la città di Bra unitamente al gruppo Aido di Bra sarà ufficialmente la prima realtà a livello regionale e prima realtà a livello nazionale dopo lo start-up iniziale Umbro che dal 1 gennaio 2014 partirà con la distribuzione e raccolta delle adesioni al gesto generoso della donazione degli organi tramite l'attività degli uffici comunali. Il comune di Cuneo ricorda che la comunità di Sant'Egidio e la parrocchia cattedrale in accordo con il comune e l'assessorato ai servizi socioeducativi e scolastici organizzano per il periodo natalizio un raccolto di regali da donare alle famiglie svantaggiate che soffrono particolarmente il periodo di forte crisi. Le prossime date in programma sono comunità di Sant'Egidio il 17-20 dicembre 2013 dalle ore 8 alle ore 19 in via Romangolo via Fratelli Vaschetto. Parrocchia cattedrale domenica 22 dicembre 2013 prospicente al Duomo. Nonostante il periodo un gesto di solidarietà può rendere particolari i momenti meno sofferenti. Si ricorda che il materiale raccolto, possibilmente capi di vestiario, cappelli e ombrelli non deve essere già stato utilizzato. Per maggiori informazioni in settore socioeducativo la mail socioeducativo chiocciolacomune.cuneo.it